Allora, buongiorno a tutti e benvenuti al quarto incontro, anzi quinto incontro, perdono, errore mio, con il Mondo Grigio, i nostri appuntamenti giornalieri sulla formazione del giovane medico, l'altra volta abbiamo fatto un discorso introduttivo per quanto riguarda tutti gli ambiti lavorativi che possono essere ricoperti dal giovane medico e abbiamo iniziato a parlare un pochino di comprensia e abbiamo iniziato a parlare un pochino anche della medicina generale, che diciamo è l'ambito insieme insieme alla clinica o al soccorso del territorio che più interessano il giovane medico ne ho abilitato. Quindi in base a quanto abbiamo detto l'altra volta abbiamo parlato degli aspetti che contraddistinguono la medicina generale, quindi le domande da fare prima di poter introdurre il lavoro e quindi le domande da porre al medico di base che voi andrete a sostituire o al pediatra in libera scelta per poter effettuare al meglio la vostra sostituzione. Abbiamo parlato del programma utilizzato, abbiamo parlato anche del tipo di lavoro che andrete a svolgere, per il resto abbiamo parlato anche del famoso tariffario. Ecco, una domanda che mi è giunta a posto giustamente per un errore mio, una mancanza mia, per quanto concerne il tariffario o quantomeno il compenso del giovane medico nel regime di sostituzione di medicina generale e pediatria di libera scelta, il compenso calcolato secondo quella famosa formula 0,074 per numero di pazienti corrisponde esattamente al compenso lordo quotidiano per una sostituzione, quindi è il compenso giornaliero per quel tipo di sostituzione. Adesso, parlato diciamo del pre-studio, andiamo a trattare oggi come funziona una sostituzione di medicina generale, quello che andrete a fare e soprattutto in questo periodo cosa andrete a fare in qualità di sostituzione di medicina generale o di pediatria libera scelta in tempi di coronavirus e vedrete che cambieranno un po' di cose. Direi di base di partire fondamentalmente da la prima cosa che voi andrete a fare una volta aperto il programma, le ricette mediche. Allora, le ricette mediche sono la parte fondamentale del medico di base, i pazienti vengono da voi o meglio venivano da voi e richiedono le ricette di farmaci virtuali o di nuove ricette che vengono prescritte mediante visite specialistiche o tramite dimissioni di regime di PS o di regime di clinica. Esistono tre tipologie di ricette fondamentalmente, anzi quattro considerando anche quelle per i farmaci stupefacenti. La più importante e fondamentale ad oggi è la cosiddetta ricetta dematerializzata. Cos'è la ricetta dematerializzata? È una ricetta tramite cui le asle territoriali valutano l'appropriatezza prescrittiva, quindi sono collegate a un sistema tramite le asle territoriali, ogni programma è collegato a questo sistema e tramite le vostre credenziali o le credenziali del medico che andrete a sostituire, questo lo stabilirete quando vi metterete d'accordo con il medico, potrete stampare queste famose ricette dematerializzate. Come funzionano le ricette dematerializzate? Come detto, una volta avuto accesso al programma, voi avete la possibilità di stampare ricette. Per stampare ricetta dematerializzata, voi dovrete necessariamente utilizzare o le vostre credenziali, con cui accederete al programma, oppure fondamentalmente le credenziali del medico. Questo lo stabilirà il medico che andrete a sostituire. Spesso e volentieri, soprattutto per sostituzioni brevi, il medico di base vi dirà non preoccupare, se serve stampare una dematerializzata, puoi stampare tranquillamente a nome io, oppure nel caso spunta l'opzione di stampare dematerializzata e stampa su ricetta rossa, con il mio account al programma. In caso invece di sostituzioni prolungate nel tempo, vi potrebbe venire chiesto ovviamente di avere l'accesso con le vostre credenziali. Come si fa questo accesso con le vostre credenziali, praticamente? C'è un codice di uscita. Questo codice di uscita viene rilasciato dall'ASL territoriale. Molto spesso il codice di uscita, se non volete andare a chiedere all'ASL direttamente voi, andarla a chiedere con le vostre credenziali ITS, basterà dare al medico di base le vostre credenziali ITS, il quale contattando l'ente del software e contattando l'ASL, provvederà, oltre ad avvisare l'ASL, perché questa è normativa, per sostituzioni maggiori di tre giorni, voi figurerete come sostituto ufficialmente all'ASL. Dovrete firmare un foglio in cui attestate che sostituite tale medico da tot giorno a tot giorno per tutto il periodo, e quindi fate completamente leggi del lavoro medico. In quel caso, fondamentalmente, è una duplice copia, una copia andrà a voi, una copia dovete portarla all'ASL, oppure lo porterà il medico di base direttamente all'ASL, questo poi lo vedrete all'ufficio di medicina generale. Una volta fatto ciò, accedete, il medico di base vi creerà il vostro account, e voi potete accedere con il vostro account. Tramite il vostro account voi potrete stampare tranquillamente, con il vostro nominativo, le ricette dematerializzate. Qui ho portato un esempio di ricetta dematerializzata, tanto per farvi vedere come funziona la ricetta dematerializzata. Secondo solo. Bene, la ricetta dematerializzata non c'è. Benissimo. Allora, parlando di ricetta dematerializzata, ve lo dirò a voce, vi farò vedere più o meno la ricetta rossa, che è più o meno simile. Come ricetta dematerializzata, insomma, fondamentalmente, la classica ricetta bianca, che vi avrete molto visto spesso, il medico di base vi lascia quando prendete un antibiotico, un farmaco o qualsiasi altra cosa, e avrà in basso il numero di intestazione del medico che andrà a rilasciare la ricetta, in questo caso voi. In alto, sulla destra, avrà tutti i dati, sulla destra della ricetta, anzi, sulla sinistra, perdono, avrà tutti i dati del paziente, quindi il nome e cognome del paziente e l'indirizzo del paziente. Sulla destra comparirà il cosiddetto codice a barre. Ora, questo codice a barre, soprattutto in questo periodo, è molto importante. Abbiamo un doppio codice a barre. Il primo piccolo codice a barre costituisce il numero del ricettario, ovviamente il ricettario del medico, e il secondo codice a barre costituisce il numero della ricetta. È un numero di otto cifre. Queste otto cifre sono importanti perché soprattutto in questo periodo di coronavirus, quando i cessi vengono contingentati, anzi, addirittura annullati molto spesso dal medico di base, è stata data la possibilità di poter inviare direttamente questo codice tramite mail o direttamente alla farmacia o direttamente all'interessato. Oppure comunicarglielo tramite linea telefonica, tranquillamente, comunicherà a comunicare al paziente quel numero di ricetta in alto a destra, ripeto, e con quel numero il paziente si regalerà tranquillamente in farmacia e potrà tranquillamente ritirare il suo farmaco. Questa è stata una normativa attuata proprio in questo frangente per snellire il lavoro dei medici di base e soprattutto l'accesso agli studi medici di base. Quindi sarà un lavoro un pochino più tematico e telefonico. Adesso, al centro della ricetta vedrete ovviamente il nome del farmaco, il farmaco che dovete interessare. Ora, per quanto riguarda il farmaco vedrete in alto subito il principio attivo e sotto il nome commerciale. Questo molto semplicemente. Per spiegarvelo meglio, perché è molto più evidente, ve lo spiegherò tramite ricetta rossa. La ricetta rossa è una ricetta che viene diretta e è veramente stampata e il dettaglio dalla zecca dello Stato. A costo di un euro la ricetta, quindi ecco perché ci ha cercato di tendere a spostarsi sulle dematerializzate invece di mantenere la ricetta rossa. La ricetta rossa classica è la classica ricetta che vedete anche in ambulatorio, fondamentalmente, ed è questa ricetta qui, che potete vedere qui. ovviamente ho provveduto a cancellare i dati sensibili. Allora, questo è il famoso codice a barre della ricetta rossa e qui c'è un altro codice a barre del ricettario. Praticamente uno è un numero seguito da 5 cifre, iniziante con S il numero ricettario, l'altro Y seguito da 11 cifre. Qui in alto, voi quando andate a compilare la ricetta, ovviamente potete compilarla sia tramite il programma, sia manualmente, qualora doveste avere problemi con il programma, facciamo caso, in questo caso voi dovreste ipoteticamente compilare una ricetta manualmente. Come si fa a compilare una ricetta? Qui sopra voi apporrete fondamentalmente il nome e cognome del paziente e l'indirizzo del paziente che verrà registrato ovviamente nel programma. Qui scriverete il nome del farmaco. Qui sotto, scriverete il nome del farmaco, in questo caso, vabbè, classico Agumentin. Qui, dove vedete la cosiddetta data, praticamente andrete ad apporre la data in cui rilascerete la ricetta. Quindi, in questo caso era di gennaio. Qui sotto, invece, dove ho sul dito, potete trovare invece il numero di prestazioni. Cosa si intende per numero di prestazioni? Adesso ve ne andrò a delencare. Allora, fondamentalmente, sia per quanto riguarda le ricette dei farmaci che per quanto riguarda le ricette dei esami specialistici e delle visite specialistiche, c'è un numero limitato stabilito ovviamente dal sistema sanitario regionale di prestazioni che potete erogare per singola ricetta. Questo numero varia a seconda della tipologia di ricetta che andrete ad effettuare. Per quanto riguarda i farmaci, tranne alcuni farmaci come per esempio i piani terapeutici oppure alcuni antibiotici come ad esempio il rocefin, c'è un limite su una ricetta di due prestazioni, ossia due scatole di farmaci che corrispondono a due prestazioni. Quindi, ad esempio, un augmenting potete fare massimo una ricetta in cui scriverete numero prestazioni 002. Mi raccomando, quando soprattutto per i farmaci stabilite le prestazioni, scrivetelo anche nel testo della ricetta. Nel testo della ricetta, cioè tu sta praticamente la parte grande qua sopra, scrivete anche il numero di confezioni che andrete ad effettuare. In questo caso, come vedete, c'è scritto già una confezione perché è stata fatta per una confezione. Ora, detto ciò per quanto riguarda i farmaci, invece, la particolarità dei farmaci con piano terapeutico. Diciamo fondamentalmente la ricetta rossa era stata utilizzata prima dei tempi del coronavirus per stampare unicamente le prestazioni su piano terapeutico. Quindi tutti quei farmaci che avevano un piano terapeutico, quindi gli anticoagulanti orali, farmaci antidiabetici e tutti quanti i presidi per i diabetici. Ok, adesso con ovviamente la nuova normativa che c'è stata a seguito dell'emergenza coronavirus, anche i farmaci con piano terapeutico, compresi gli anticoagulanti orali, possono essere prescritti su ricetta dematerializzata. Importate per gli anticoagulanti orali, e questa è una cosa molto importante, soprattutto per quella classe di farmaco, non potrete prescrivere più di una confezione ogni mese. Quindi, se vi dovesse arrivare un paziente per cui avete prescritto una ricetta oggi 16 aprile, prima del 16 maggio, se 15 maggio non fa niente, se 14 non fa niente, però vi arriva prima del 16 maggio, sempre il 2 maggio, e vi dovesse chiedere una ricetta per un farmaco anticoagulante, voi non potrete prescriverla, perché? Per una questione di costi, i farmaci anticoagulanti per il sistema sanitario nazionale e regionale hanno un costo abbondante che, secondo il bilancio, va scalato a livello mensile, e quindi si è fatta questa normativa per calmierare, tra virgolette, l'utilizzo degli anticoagulanti, quindi il piano terapeutico per gli anticoagulanti orari è un piano terapeutico per cui vi permette di prescrivere massimo una confezione ogni mese, quindi sulla ricetta come quantitativo dovrete inserire il numero 1 e una confezione, come l'oxarelto, per esempio. Altra cosa per quanto riguarda invece dicevamo i numeri delle prestazioni, per quanto riguarda prestazioni invece che riguardano visite mediche o esami specialistici, voi potrete inserire anche lì massimo due prestazioni, quindi ad esempio è ovvio che se fate due visite di due ambiti diversi inserirete un'unica prestazione come prima visita d'orinoraringoiatrica o prima visita chirurgica o visita di controllo farete una ricetta unica, però per fare un esempio molto pratico in cui potete inserire due prestazioni all'interno della stessa ricetta. Se prescrivete una visita cardiologica e un elettrocardiogramma potrete tranquillamente metterli sulla stessa ricetta. L'importante è che venga rispettato il limite di due prestazioni. Altra cosa importante per quanto riguarda invece le analisi del sangue, il limite per ogni ricetta è di prescrivibilità di otto prestazioni, quindi per ogni ricetta voi potete effettuare otto prestazioni, quindi massimo otto tipologie di esame, emocromo, glucosio, queste cose qui, il numero massimo di otto per ogni ricetta. Questo è molto importante perché ovviamente poi il programma vedrete che ve le stamperà in automatico, a qualora vi troviate a fare una ricetta manuale, tranquillamente potete, sappiate che dovete mettere massimo determinato numero di esami, non più di quello. Quindi ricapitolando, massimo due ricette, due elementi, due prestazioni per quanto riguarda i farmaci, massimo otto prestazioni per quanto riguarda le analisi, massimo due prestazioni per quanto riguarda le visite specialistiche oppure gli esami specialistici. Massimo due, ovviamente si parla di esami correlati, come abbiamo detto, quindi elettrocardiogramma, ad esempio, e visita artiologica. Altra cosa molto importante, questo per dirvi quanto è complesso il mondo delle ricette, l'altra cosa molto importante ovviamente è la, come abbiamo detto, intanto aggiungo per quanto riguarda i rocce, fino ad esempio potrete fare massimo sei prestazioni all'interno della stessa, quindi sei confezioni di rocce, magari sono classi particolari, potrete chiedere anche consiglio, se non lo sapete, al vostro medico di medicina generale o la metformina, massimo tre confezioni, però quello ripeto, chiedete consiglio, se non sapete, al medico che andrà a sostituire, perché ripeto, è un mondo molto ampio, complesso a livello burocratico, come vedete, però con un minimo di esperienza, poi andrete a vedere che è molto facile, molto semplicissimo, anche perché vi aiuta molto il programma in questo, perché vi fa stampare le ricette come devono essere fatte. altra cosa importante, dicevo, per quanto riguarda le ricette mediche, la parte in alto a destra, a sinistra, perdono, questa qui, l'esenzione, il codice ASL, e qui vedete invece a destra la nota dove vanno inserite le eventuali note farmaceutiche, e qui potete vedere invece il regime di prescrivibilità, ossia la priorità della prescrivibilità. Partiamo dalla priorità innanzitutto. Allora, per quanto riguarda la priorità, significa che esistono quattro tipologie di priorità. L'urgenza, ossia immediata entro tre giorni, la ricetta del sistema deve erogare la prestazione entro tre giorni, la breve, con la B, ossia la prestazione deve essere erogata entro dieci giorni, la differita è quella che mettiamo insieme alla programmabile, oppure mettevamo prima, adesso ovviamente accettano solamente visite urgenti o brevi dato il periodo, prima mettevamo la cosiddetta brevità e la cosiddetta programmabilità o la differita. Differita significa fondamentalmente che le prestazioni hanno validità o per 30 giorni per quanto riguarda per quanto riguarda le visite in locazione ad esempio dei farmaci quindi 30 giorni per quanto riguarda i farmaci oppure dai 60 giorni a un anno per quanto riguarda le visite. Questa è la differibilità. La programmabile significa che nell'arco dell'anno puoi programmarti la visita quando meglio quando ritieni opportuno. Quando in consiglio pratico in periodo normale parliamo quando andate a fare una ricetta stabilite sempre sempre e sempre la priorità perché ovviamente la priorità sarà importante poi ai fini del sistema sanitario nazionale per poter stilare la lista dei pazienti che andranno a effettuare la visita quindi un paziente con breve avrà un diritto d'accesso prioritario rispetto a un paziente che avrà un acceso indifferita o improgrammabile però mi raccomando mettetelo sempre. Per quanto riguarda dicevo il periodo di erno fondamentalmente utilizzerete soprattutto la dicitura in breve per quanto riguarda visite che non possono essere rimandate certo se vi arriva un paziente che dice deve fare l'analisi routine magari consigliategli di rimandare un pochino queste analisi e di al fine di non sovraccaricare il sistema sanitario e veramente lasciarlo libero per quanto riguarda le urgenze è ovvio che se vi arriva un paziente che è in terapia anticoagulante che deve fare necessariamente un INR necessariamente metterete la dicitura breve urgente non lo guardate proprio fondamentalmente l'urgenza è un carattere fondamentalmente che non viene mai utilizzato si utilizza sempre il breve ma l'urgente proprio no anche perché è una responsabilità che vi prendete voi di far passare avanti un paziente rispetto a un altro con la dicitura urgente questo tanto per spiegarmi normalmente come funziona il ricettario per quanto riguarda le esenzioni ecco le esenzioni esistono due tipologie di esenzioni ci sono le esenzioni per reddito e le esenzioni per patologia chi rilascia queste esenzioni le rilascia la ASL tramite le rilascia direttamente al paziente che vi porterà un foglio rilasciato dall'ASL in base a una patologia che ha o a una situazione di reddito tramite cui voi registrete queste esenzioni nel programma e quando andrete a stampare le ricette dovrete apporre questa esenzione ora come funzionano le esenzioni ciascuna esenzione ha ciascuna esenzione esenta appunto il paziente dallo svolgimento di determinate prestazioni ci sono esenzioni come le esenzioni per reddito che fondamentalmente esentano esentano il paziente da qualsiasi prestazione quindi fondamentalmente ovviamente erogata dal sistema sanitario nazionale quindi fondamentalmente mi raccomando concentratevi soprattutto cioè apponete le esenzioni per reddito le potete distinguere iniziano fondamentalmente con la le sono di tre tre lettere tre numeri iniziano con la lettera E come E01 per i soggetti maggiori di 65 anni o con la lettera C per la disoccupazione o l'invalidità e quelle sono ricette per cui coprite tutto poi abbiamo ovviamente le esenzioni per patologia abbiamo detto le esenzioni per patologia si intendono esenzioni per patologia cronica esenzioni per patologia acuta esenzioni per patologia genetica le esenzioni per patologia genetica iniziano fondamentalmente con la lettera R lì c'è un po' un contenzioso perché in teoria secondo la normativa italiana tutte anche per quanto riguarda le persone con patologia genetica possono hanno diritto a tutta l'esenzione per tutti gli esami spesso non vi viene riconosciuto ma sappiate che per tutte quelle persone che hanno un'esenzione iniziante per R quindi patologia genetica hanno diritto fondamentale o congenita addirittura hanno diritto all'esenzione per tutte le prestazioni che andranno a effettuare differente per gli altri numeri per le altre patologie ad esempio la 048 per le patologie tumorali o la 013 250 per il diabete quello da diritto unicamente a terminate le prestazioni alcuni programmi vi aiutano quindi non vi fate spaventare alcuni programmi vi aiutano vi pongono già in automatico l'esenzione sulla ricetta in maniera tale che voi non dovete stare a cercare se quell'esame può essere esentato oppure non deve essere esentato il paziente sente o non esente il programma vi aiuta vi dice già qual è l'esenzione che dovrete mettere a porre su quella ricetta se c'è un'esenzione quindi su questo siete facilitati importante per l'esenzione perché se no altrimenti i pazienti vi tornano e il dottore non mi ha messo l'esenzione e quindi vi ritornano in continuazione quindi valutate bene trovare le prestazioni erogate è molto difficile perché spesso e volentieri l'ASO nemmeno rilascia il foglio delle prestazioni erogate o il paziente non vi rilascia il foglio insieme al cedolino dell'esenzione in cui viene rilasciata quindi ovviamente fatevi aiutare dal programma o magari chiedete consiglio al medico in questo caso se a porre o meno l'esenzione è importante per l'esenzione l'esenzione per reddito e l'esenzione per patologia cronica ovviamente non hanno bisogno di rinnovo fondamentalmente perché sono esenzioni per patologia l'esenzione per reddito soprattutto quelle tranne quelle 0,1 di 45 anni hanno rinnovo annuale e anche per invalidità hanno rinnovo annuale quindi se dovesse scadere un'esenzione ovviamente comunicata al paziente che l'esenzione sta per scadere il programma che lo dice anche quello e quindi fondamentalmente la comunicata al paziente che ha necessità di rinnovare quell'esenzione se vuole nuovamente avere le ricette con quell'esenzione questo è molto semplice e spiegato in parole spicci ovviamente poi cercherò di fornirvi a più presto tutto il materiale schematizzato perché capite bene è un processo complesso come vedete quindi parlare così diventa anche complicato magari con una parma schematica riuscite a capire meglio altra cosa importante per quanto riguarda la ricetta oltre il numero importante del resto la nota farmaceutica la nota farmaceutica cos'è? sono le note dell'AIFA le note di appropriatezza prescrittiva l'AIFA per molti tipi di dolce di farmaci come le statine come per fare un esempio banale ancora i inibitori di pompa prodonica l'omeprazolo il pantoprazolo con determinate note farmaceutiche che costituiscono l'appropriatezza prescrittiva e il regime di sistema sanitario nazionale tali note fondamentalmente vengono utilizzate per i pazienti in trattamento cronico ad esempio con cortisonici o che prendono pazienti anziani che hanno una terapia polifarmacologica quindi ad esempio la famosa nota 48 dell'inibitore di pompa protonica sta a indicare fondamentalmente le prestazioni la terapia clonica per terapia polifarmacologica o terapia clonica con steroidi e similari apporrete queste note quando? quando riterrete opportuno avere questa appropriatezza prescrittiva ora si tende ovviamente a metterle ad esempio per quanto riguarda il pantoprazolo quando è utile perché il pantoprazolo se non è prescritto tramite nota quindi tramite appropriatezza prescrittiva è in cosiddetta classe C ossia non mutuabile quindi dovrà essere fatto sull'altra ricetta che vedremo che è la ricetta bianca classica scritta a mano in cui il paziente non dovrà pagare un ticket ma dovrà pagare il farmaco per intero quindi questo valutatelo bene sulle note farmacologiche tenete sempre in mente un prontuario farmaceutico se non ricordate un nome di un farmaco soprattutto questo è un altro consiglio che vi do se non ricordate una nota farmacologica ci sono delle varie app scegliete quella migliore e trovate il prontuario farmaceutico che vi è più idoneo che vi darà anche le note di prescripibilità di appropriatezza prescrittiva altra cosa importante per quanto riguarda la ricetta non meno importante è la diagnosi quando bisogna mettere la diagnosi e dove bisogna mettere la diagnosi allora la diagnosi va messa qui in basso in questo caso è un farmaco voi qui in basso non vedete la diagnosi va scritta qui sotto all'ultima riga essendo un farmaco voi non mettete la diagnosi perché con i farmaci non viene richiesta la proprietà prescrittiva tramite diagnosi e fondamentalmente tramite magari qualche farmaco per il diabete lo potete anche mettere cioè è vostra scelta la vostra riscrizione per quanto riguarda ovviamente le prestazioni specialistiche e gli esami del sangue è necessario porre la ricetta speciale porre la diagnosi la diagnosi per esempio i diabete mellito le classiche importante per quanto riguarda soprattutto le ricette questo è sempre tramite normativa grandi belle normative per complicare la vita ai medici per quanto riguarda le ricette soprattutto per prestazioni ortopediche o per prestazioni fisiatriche perché? perché le prestazioni ortopediche o fisiatriche vogliono il cosiddetto codice di agnosi cos'è il codice di agnosi? semplicemente è un codice attribuito dalla regione di appropriatezza prescrittiva per quella tipologia di diagnosi come si fa a mettere il codice di agnosi? ecco il codice di agnosi in teoria vi dovrebbe essere fornito dallo specialista cosa che spesso e volentieri non viene fatta quindi fondamentalmente alcuni programmi vi aiutano se per esempio un paziente ha una lombalgia non vi basterà scrivere sotto che ne so visita ortopedica diagnosi lombalgia no visita ortopedica e sotto dovrete mettere codice CI punto è un codice alfanumerico praticamente lombalgia come trovate questo codice? ripeto ve lo deve fornire lo specialista perché ovviamente voi non potete andare a cercare 200.000 codici tra senza sapere dove andarli a cercare non si trovano nemmeno su internet o altrimenti quando non ve lo fornisse lo specialista ripeto ci sono alcuni programmi che vi aiutano tramite ricerca per codice di agnosi e tranquillamente lo potete fare se avete un dubbio o non sapete il codice tranquillamente potete dire al paziente guardi mi ha portato questa ricetta riporti chieda gentilmente allo specialista per avere anche un aiuto da un collega se può fornire il codice di agnosi quantomeno anche perché abbiamo bisogno del codice prestazione il codice di agnosi quindi questa è una cosa molto complessa bisognerebbe fare una versione a parte che ho fornito un riassunto cercherò di essere vedete quanto è complesso anche completare una ricetta cercherò di essere chiaro e maggiormente chiaro nelle slide se avete delle domande nei prossimi giorni potete porle tranquillamente quindi direi di concludere il discorso ricetta e passare all'altro tipo di discorso per quanto riguarda la medicina generale che sono le certificazioni e cosa so quali certificati esistono esistono varie tipologie di certificati che voi potete effettuare in regime di sostituzione esistono i certificati a titolo gratuito esistono i certificati a titolo esenti da IVA e i certificati comparti da IVA per quanto riguarda le tipologie invece di certificato che voi andrete a fare sono abbiamo i certificati anamnestici che sono i certificati ad esempio di attività sportiva non agonistica certificato per portodarni certificato per patente certificato assicurativo questi sono i certificati anamnestici cosa dovrete specificare nei certificati anamnestici innanzitutto la data in cui state compilando il certificato molto importante perché molti certificati hanno validità annuale compreso quello per attività sportiva non agonistica i dati anagrafici del paziente completi quindi dato di nascita dove è nato nome e cognome dove attualmente risiede tutti i segni clinici obiettivabili da voi eventualmente quindi se non c'è obiettivabilità voi scrivere dice a seguito di visita la mia effettuata non riporta patologie obiettivabili e i dati clinici riferiti dal paziente quindi dati clinici obiettivabili da voi e riferiti dal paziente timbro e firma semplicemente se siete in regime di sostituzione non è necessario fondamentalmente cercate la vostra sostituzione non è registrata all'asta cercate di apporre il cosiddetto doppio timbro quindi il timbro del medico che è andato a sostituire scritto vicino un per semplice e sotto il timbro vostro con la firma molto tranquillamente questa è la cosa molto semplice stessa cosa che farete poi per le ricette per le ricette stessa cosa ovviamente se siete in regime di sostituzione e non accedete con il vostro e non accedete con il vostro il vostro account utilizzate il cosiddetto doppio timbro ossia il timbro del medico sopra e il timbro del medico sotto mi raccomando però una cosa importante e questa ve la voglio ricordare non coprite questa parte qui perché questa parte è destinata alla farmacia se coprite questa parte qui la farmacia vi rimanderà indietro la ricetta quindi se dovete apporre il doppio timbro apponetelo poco più sotto il timbro dell'altro medico molto importante perché se no la ricetta viene rimandata indietro questa era una parentesi che volevo fare e torniamo ai nostri certificati adesso parlando appunto della tipologia di certificati abbiamo detto come si compila e quali sono le tipologie di certificati il certificato abbiamo il certificato anamnestico adesso andiamo a vedere gli altri certificati abbiamo anche il cosiddetto certificato di possiamo fare il certificato di malattia certificato di malattia sul lavoro è un certificato gratuito si fa tramite il sistema ATS come già vi ho spiegato nelle precedenti lezioni basterà inserire tutti i dati del paziente e i giorni di malattia mi raccomando soprattutto nei giorni di malattia soprattutto adesso in questo periodo perché ovviamente la cosa importante è il numero di protocollo che dovete dare al paziente come vi ho detto non può essere dato via mail non può essere dato via mail o non può essere tanto meno dato via telefonica si è cercato in questa frangente ovviamente di essere un po' più elastici perché fondamentalmente ripeto dare il certificato via mail o via telematica costituisce un falso in atto pubblico per legge e in quanto falso in atto pubblico se voi comunicate per via telefonica o via mail un numero di protocollo rischiate una multa anche di 8000 euro se non di più e anche una sospensione se l'ASL se l'IMS va a indagare e fondamentalmente scopre che avete fatto questo per il resto per quanto riguarda il resto in questo particolare frangente si tende ad essere un pochino più elastici per quanto riguarda il certificato di malattia voi andate a porre la diagnosi di malattia che voi obiettivate e ritenete opportuna fare non avendo possibilità di svolgere visite in questo periodo ripeto avete la possibilità tranquillamente di obiettivare o sentire anche tramite telefono la tipologia di malattia e valutare un numero di giorni idoneo cosa importante state attenti con i certificati di malattia in questo periodo perché molto spesso e questo parliamo della parentesi coronavirus molto spesso il certificato di malattia vi viene richiesto dal datore di lavoro il datore di lavoro dice al paziente no per me tu non puoi venire a lavorare perché non lo so metti a rischio o contagio insomma inventano tutte e invece di metterlo in casa di dargli le ferie dice fatti fare il certificato di malattia e ti arrivano i pazienti tranquillamente e sto dicendo il datore di lavoro mi ha chiesto il certificato di malattia benissimo il datore di lavoro non costituisce un'autorità sanitaria l'unica autorità a cui voi come medici rispondete è l'autorità sanitaria se il paziente un paziente vi viene dicendovi che il datore di lavoro gli ha richiesto un certificato di malattia per assentarsi dal lavoro senza che il paziente abbia realmente dei sintomi obiettivabili voi dite tranquillamente al paziente il datore di lavoro non è l'autorità sanitaria io rispondo all'autorità sanitaria se il datore di lavoro reputa che lei deve stare a casa per motivi ignoti faccia riferimento al medico competente quindi al medico competente aziendale o della struttura voi non rilasciate alcun certificato richiesto da autorità non sanitarie o richiesto direttamente dal paziente certificati richiesti da terzi non devono assolutamente essere rilasciati perché poi costituiscono falso in atto pubblico a livello legale quindi fate attenzione in questo periodo soprattutto a questa cosa perché è molto importante stessa cosa per altre due tipologie di certificati medici richiesti in questo periodo il famoso codice V29.0 che è il certificato di quarantena isolamento fiduciario e il certificato di e il certificato di di codice V07 che è il certificato di isolamento fiduciario per i soggetti a rischio ora il V29.0 può essere rilasciato solamente su indicazione della ASL quindi che succede un paziente va rilasciato a quei pazienti che sono stati effettivamente trovati positivi a covid quindi che succede che se la ASL finché il SISP l'ufficio di salita pubblica ovviamente di malattie infettive della ASL non vi comunica che il paziente a seguito di tampone effettuato deve effettuare il regime di quarantena voi non potrete certificare il V29.0 quindi 15 giorni di quarantena ma dovrete far certificare un'altra tipologia di malattia che poi andremo quindi si tende per aiutare in attesa del tampone a dire guarda intanto li metto in malattia per gastroenterite li metto in malattia per questo o per qualcos'altro però cercate mi raccomando non mettete il V29.0 perché poi l'IMS non glielo riconosce al paziente non glielo riconosce l'indennizzo stessa cosa per il V07 in alcune regioni il V07 è prescrivibile dal medico di medicina generale in questo caso per quanto riguarda la regione Lazio non è così per quanto riguarda la regione Lazio nel nostro caso specifico quindi andate a vedere le normative regionali il V07 può essere prescritto dal medico di medicina generale ma a seguito dell'emergenza quando l'IMS andrà a fare i conti potrebbe scegliere di non validare quel vostro certificato e quindi il paziente non percepirà l'indennizzo di malattia perché? perché nella regione Lazio il V07 può essere fatto solamente applicato come codice certificato di malattia V07 da uno specialista per esempio un paziente cronico oncologico quindi paziente a rischio che richiede un V07 si dovrà far rilasciare tale certificato dal suo oncologo e non da voi medico di medicina generale segnatevi queste cose perché sono cose particolari solamente di questo periodo e con questo concludo la parte di certificati di malattia poi abbiamo un'altra tipologia di certificati che sono i certificati di decesso i certificati di decesso ovviamente sono i certificati che voi rilascerete dopo possono essere a seguito di visita in quanto medico e di accertazione della morte che avviene all'incirca non prima di 15 ore dal decesso è un certificato in cui voi dovrete riportare tre cause di morte insieme al modello ISTAT che poi vedrete lì quindi causa iniziale causa intermedia e causa finale e le tipologie è semplicemente quello timbro data di morte dati del paziente e firma questo è un certificato gratuito che deve essere inviato stessa cosa per quanto riguarda il certificato di denuncia di malattia o il certificato ad esempio di nascita ma questi sono molto semplici mi raccomando però la compilazione del modello ISTAT che deve essere fatta da voi in questo particolare caso dovesse esserci una casistica di paziente deceduto per covid ovviamente potrete fare richiesta se non avete di più adeguati che il certificato venga fatto dal medico dell'asse perché in primo luogo è la vostra sicurezza importante e poi la certificazione c'è un po' un controsenso a livello legale ma purtroppo è così ad oggi altra cosa non meno importante concludendo questo aspetto delle certificazioni sono i certificati appunto esenti da IVA ora e quelli ovviamente compartiti da IVA ora a seguito la legge del 2006 tali certificati non esiste più un tariffario per i certificati ma esistono dei tariffari come la medicina generale che vengono stabiliti dal medico stesso e come già vi ho detto l'altra volta ci sono molti medici che nemmeno li fanno pagare sta a voi perché la responsabilità è vostra quando andrete a fare la sostituzione decidere stabilire la cifra che ritenete idonea ovviamente trattenendovi e andando a valutare un attimo i tariffari per esempio un certificato ad amnestico per attività sportiva non agonistica va all'incirca dai 20 ai 30 euro quindi non chiedete 50 euro per un certificato di attività sportiva non agonistica quali sono questi certificati a pagamento sono ad esempio il certificato di porto d'arma il certificato per la patente il certificato assicurativo il certificato di appunto attività sportiva non agonistica il certificato per i campi estivi quindi una serie di tipologie certificati che per sapere quali sono se sono a pagamento o no basta togliere quelli che non sono a pagamento cioè il certificato di malattia il certificato di infortunio malattia professionale ina il certificato di il certificato di come abbiamo detto di di morte quindi di decesso la costituzione di decesso e più una serie di certificati a seguito della legge balduzzi del 2012 che vengono considerati non a pagamento quindi ad esempio l'attività ludica in regime scolastico l'attività ludica in regime scolastico magari vi capiterà soprattutto quando se dovreste sostituire pediatri libera scelta non viene considerato a pagamento stessa cosa per quanto riguarda ad esempio il rientro a scuola il rientro a scuola non è un certificato a pagamento questi sono gli unici due certificati secondo la legge balduzzi non a pagamento ovvio che se il ragazzo o il bambino deve essere effettrici no devo fare un certificato medico per la cosa per la per la piscina ecco la piscina esterna alla scuola quindi quello è un certificato per attività sportiva non agonistica e quindi prevede un pagamento questo sta nella legge ma sta sempre a voi ricordo la responsabilità è vostra sta a voi scegliere poi se per esempio il medico che andate a sostituire non fa pagare il certificato potete scegliere o seguire la sua linea o seguire la vostra linea perché ripeto la firma che mettete sul certificato è la vostra quindi fate attenzione questo è un messaggio che vi do quando compilate un certificato quando compilate un certificato mi raccomando di essere più precisi possibili perché molto spesso mi ricordo sempre un episodio in cui vennero a chiedere un certificato di assicurire per l'assicurazione quindi assicurativo vennero senza avere idea perché il certificato assicurativo comprende un'anamnesi molto approfondita quindi tutte le patologie di tipo neurologico di tipo cardiologico un'anamnesi un'anamnesi patologica remota un'anamnesi prossima di tutte le patologie quindi vengono e vi dicono no ma perché si aspettano semplicemente che voi mettete una firma sul foglio in bianco ecco assolutamente non farlo se non vi danno determinate informazioni potete rifiutarvi di fare il certificato perché ripeto voi scendete nel penale perché state facendo in quel caso un falso in atto pubblico firmando un foglio in bianco e quindi si entra nel penale pertanto quando compilate un certificato abbiate la maggiore attenzione possibile anche per un semplice certificato di nonità di attività sportiva non agonistica fatevi sempre e questo ovviamente secondo l'ultima normativa fatevi sempre portare l'ICG fatto da meno di un anno perché il certificato ha validità annuale ripeto ma adesso richiede un elettrocardiogramma certificato che deve essere svolto è stato fatto in tempo minore di un anno rispetto alla firma del certificato quindi se arriva un paziente che ha fatto l'ultimo ICG nel 2017 e nel 2018 piglia un certificato ora di donità sportiva non agonistica assolutamente no assolutamente no questo per dirvi come molti pensano che il certificato sia una carticina così e non sanno che tipo di responsabilità ha il medico dietro quindi sappiate fare le cose in maniera attenta soprattutto mi raccomando l'attenzione perché poi andrete anche a rilisciare i certificati in base per portodarmi per esempio quindi è una responsabilità abbastanza grande che vi prendete per il resto ecco queste sono le tipologie di certificati che poi andrete a fare come detto ovviamente in questo periodo particolare non vengono di chiedere tanti certificati se non quelli di malattie e vi ho spiegato come fare questi certificati ultimo argomento che oggi andremo a trattare e poi chiudiamo un quadro che sono dilungato un po' ma come capite la moneta è abbastanza larga per concludere l'aspetto della medicina generale sono le cosiddette visite domiciliari che si dividono in due categorie abbiamo le cosiddette ADI e le cosiddette ADP ora le cosiddette ADP sono le le cosiddette assistenza domiciliare programmata cos'è l'assistenza domiciliare programmata? l'assistenza domiciliare programmata sono quelle visite che il vostro medico di base soprattutto per sostituzioni lunghe il medico di base andrete a sostituire ha già in programma soprattutto sono pazienti cronici pazienti molto anziani pazienti con patologie plastiche o croniche sono quelle cosiddette visite programmate stabilite tramite l'ass dal medico di medicina generale soprattutto tramite il servizio CAD viene fatto questa cosa per cui voi vi dovrete regare periodicamente e le date ovviamente periodicamente significa il medico di base vi dirà questa paziente deve essere visitata ogni due settimane o questa paziente in questo mese deve essere visitata una volta sarete voi a stabilire il giorno ovviamente cercate di informarvi magari quando è stata l'ultima volta che il medico l'ha vista e cercare di mantenervi più o meno intorno a quella data e sono soprattutto questo è molto importante visite per cui voi percepirete un compenso a parte compenso a parte che è stabilito al tariffario dell'AS per le visite domiciliari dell'ADP che corrisponde all'incirca 18 euro l'ordine per ciascuna visita non esistono le visite domiciliari programmate gratuite fatelo presente anche quando deve sostituire ovviamente molti medici vi diranno già se queste della paga a parte il compenso deve arrivare direttamente dal medico in questo caso così come in ogni sostituzione l'unica variazione che c'è è per le sostituzioni prolungate da più di un mese in cui fondamentalmente anche per malattie del medico paga direttamente l'AS ma quello è una cosa a parte per il resto ripeto abbiamo queste programmate in cui dovrete fondamentalmente visitare il paziente prendere i parametri e tranquillamente fare il vostro esame obiettivo e senza poter anche non lasciare nessun certificato hanno loro un foglio solitamente i pazienti in cui riportano la pressione la saturazione i battiti di cardiaci e voi segnate queste sono le visite programmate l'altra tipologia di visite è la cosiddetta visita richiesta come abbiamo detto già l'altra volta per le visite domiciliari richiesta se il paziente vi avvisa entro le 10 del giorno voi dovete necessariamente effettuare nell'arco della giornata la visita domiciliare se lo ritenete opportuno se no altrimenti se vi chiama per una visita domiciliare dopo le 10 potete svolgerla tranquillamente entro le 12 del giorno successivo questo stabilisce la normativa e ovviamente sta a voi poi decidere se si tratta di un'urgenza reale o si tratta di un'urgenza differibile quindi sta a voi scegliere se potete andare subito a fare la domiciliare oppure andarci con calma l'importante è che rispettiate queste tempistiche non vi potete esimere attenzione dal non effettuare una visita domiciliare richiesta se vi viene richiesta ovviamente in questo periodo cercate un attimino di far capire al paziente in questione dato che molto spesso non ci sono i cosiddetti dispositivi di protezione individuale adeguati ma spesso nemmeno i pazienti ve la chiedono che per effettuare una domiciliare avete difficoltà perché ovviamente potrebbe essere un pericolo sia per voi che per quanto riguarda il paziente perché non sappiamo la tipologia di contagio come va quindi proprio in questo periodo molto spesso le visite domiciliare non vengono neppure richieste se non in casi gravissimi se reputate opportuno di poterlo il consiglio di viola sia reputato opportuno con i dovuti dispositivi di protezione mi raccomando quindi camice monouso guanti cuffietta mascherina e occhiali di poter effettuare la visita domiciliare oppure che non correte pericolo in questa visita domiciliare andate ad effettuare la visita domiciliare altrimenti cercate di far capire al paziente che in quel caso è meglio avvisare la autorità sanitaria al 118 piuttosto che far venire il medico ma più che altro per una questione di anche protezione individuale vostra e anche del paziente stesso detto questo fondamentalmente sempre per concludere il cosiddetto compito il medico in termini di coronavirus questo ve lo dico anche perché seguo a livello anche regionale tutte le segnalazioni al SISP come avvengono come va a seguito un paziente risultato o sospetto positivo a coronavirus il paziente fondamentalmente risultato sospetto positivo a coronavirus deve essere eseguito nella terapia dal medico di medicina generale cosa qual è il compito del medico di medicina generale in questo caso innanzitutto invitare il paziente con link epidemiologico positivo o con sintomatologia positiva consiglio che vi do basatevi molto sulla sintomatologia può inviare lui stesso una segnalazione all'ufficio di igiene e sanità pubblica dell'ASL di riferimento del paziente oppure invitare il paziente a chiamare il numero verde regionale l'800 118 800 per quanto riguarda il Lazio e gli altri numeri regionali per quanto riguarda le altre regioni che se lo riterrà opportuno segnalerà l'ASL che poi contatterà direttamente il paziente passano dei giorni ovviamente e farà una di questionario epidemiologico e poi comunicherà sia al paziente che eventualmente al medico di medicina generale l'esito di questo colloquio e se il paziente avrà effettuato tampone o meno in caso di tampone positivo ovviamente il paziente inizialmente se non è necessario il ricopero va trattato a domicilio e la terapia deve essere stabilita dal medico di medicina generale quindi sarete voi a dover stabilire se avrete sostituzioni lunghe se non lasciate fare al medico di medicina al medico titolare la terapia più appropriata nel caso in cui il paziente vi telefoni e vi dica l'astro non mi ha contattato l'astro no se questo almeno il mio pensiero cercate perché il paziente soprattutto in questo periodo ha un ruolo primario quindi cercate voi di prendere il telefono chiamate il sysp dell'astro cercate di capire il perché ma anche questo per una tutela del paziente anche una tutela vostra fate vedere al paziente comunque che vi state impegnando per mantenere il suo stato di salute comunque vi state interessando al suo stato di salute e questo diciamo è il oltre abbiamo detto a comunicare ricette al via telefonica a fare anamnesi e visita a livello telefonico perché è abbastanza difficile e a spedire ricette così e certificazioni appunto è il compito che abbiamo che ha il medico di medicina generale in tempi di coronavirus quello che abbiamo detto prima è il compito in linea generale quello che abbiamo detto dopo è tutto quello che ha il medico di medicina generale anche il pediatra libera scelta in tempi di coronavirus quindi seguire il paziente valutare se è necessaria la segnalazione farla lui stesso o chiamare o invitare a chiamare il numero regionale fate chiamare anche il numero regionale che abbiamo ci sono già le schede precompilate quindi praticamente possiamo raccogliere si possono raccogliere i dati del paziente e seguire il paziente nel tutto leader terapeutico essendo reperibili quindi rendetevi reperibili cercate di aiutare soprattutto in questo periodo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti